Che cosa mi dici del rumore che hai sentito prima dell'esplosione? Descrivimi. Quello è la chiave di tutto, la chiave di tutto. Anche venerdì, dio cane! Tiga nastro! Dio porco! Lo sentite? Sì. Tiga nastro! Dio porco! Le pause colpiscono, le sentite le pause? Dio porco! Dalle pause si nota che c'è un'impronta. Modelli ripetitivi. Anche venerdì, dio cane!